Se volete acquistare crediti di FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto BOOM! Bella vecchietà ma di semi-gratz siamo tornati con una nuova sfida qui su FIFA Semi-gratz Semi-gratz Perché oggi noi andiamo in palestra perché ci piace andare in palestra e niente comunque Oggi cosa facciamo? Una sfida di FIFA però non sarà come le classiche di FIFA tipo ogni gol o qualcosa Ma sarà una sfida con i valori aumentati Cioè prima intanto prendiamo le squadre casuali poi sarà Prende infortuni 100% praticamente ogni tiro se si è infortunato ai giocatori divertisse per sta cosa Vai Artrea 3 2 1 Artrea 3, 2, 1 fai 1 2 4 New York City Contro Salisburgo Red Bull Salzburg Fiamme i Red Bulls No Dai so No No New York City E tanto so uguale No so più forti i Red Bull Non ci stanno in meno dai Ciao Vai tutta Red Bull Tutta Red Bull Chi finisce prima la partita in sette Sì Non vedo perché Cioè Prende non caderà de meno Vai 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 Cominza Lo sfidone Tutti ignari Ignari Di quello che succederà Oh Oddio Oddio Fammelo sto tiro Oddio Quando sei infortunato sto pezzo 1-0 1-0 Cazzo Cazzo Oli del Red Bulls Salzburg Tu 1-0 Tu 2-0 Ora dobbiamo soltanto pensare a 2-1 Sei infortunato 2-0 perché come ho fatto chi c'entrava lui nell'azione che palle stiamo 1 a 0 per me vabbè primo fortunato vai ne vedrete molti di questi cambi guarda che manco esce già è morto ma stavo solo a corre come hai fatto a morire che stavo solo a corre non ho attirato non ho fatto nulla red philips poi cioè quello più forte ma che cazzo ma non c'ho manco un attaccante di riserva mettici il bustamante ma che è bustamante è uno che sta di cartomante ma no ma non sei fortunato red philips parti oddio artizzi questo è quello che doveva succedere prima che tu segnassi però ho un fame dai non riesco a fare un'azione vai che è soriano ma mo soriano sei infortunato vai non c'ho un attaccante vao cacca dal cazzo come me vai ho paura io ho due ho paura va che ti è infortunato vai si è infortunato il tuo ma che cazzo dici ma come ha fatto tutti pensano che esultavo per gol dai ma come ha fatto vai 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 che azione manovrata incredibile fantastica unica inimitabile sto cazzo dai dai no rotto il cazzo è invulnerabile ma dai devi pure rosso magari giallo cazzo no rosso no cazzo lo metti solo rosso è da paura cioè se è più rosso è proprio da paura non è che mo si è piaciuta quello sbattarfallo sta infortuna no ha fame ha fame fracico oddio oddio mezzo a due oddio 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 oh mortacci tua ma non si rompe mai il tuo ma il philips è un fenomeno c'è 99 di resistenza c'è cazzo c'era presa al posto del cazzo che cosa è che hai fatto ma un gioco più passaggio alto il gioco più ci immagini no se vuoi romper dai dai arriva affanati rigore no rigore cazzo dai ma dai fai fare in aria vai vai è un 2 a 0 cazzo mamma mia chi slenistan porco 2 ora si è strappato bello mamma mia questo è proprio gran giocale e busta se ne va questi sono granschi grandi scherzo buce di culo come cazzo è passato come cazzo è fatta a mangiare lo stato non ho fatto a mangiare se lo mister bruno si chiama quello che ha fatto oddio in mezzo a due in mezzo a due apertura grandissima per sam che si fanno io ho scritto che scuola baggata del merda 3 a 0 3 a 0 ma cosa di come fatto la rai phillips ancora rai phillips rai phillips mamma mia guarda che buccia del culo ma non ci voglio crede ma che porti sta cosa oddio rigore e dai mamma ma che cazzo sta a dimostrarmi se merda che sembra ma che cazzo voi ma se me se non rosso rosso e già sta in dieci ma che cazzo vuoi mi ha dato la scivolata ma io stavo già per terra dopo preso il pallone mese cascata addosso c'è ma vaffanculo ma che cazzo ma che rigore ti ha dato posso capire primo ma al secondo ma vaffanculo ma che pippe ma dai perché c'ho il voto 5.9 robels ma che è perché non mi cambia più i giocatori ma perché sto con robels ma che è sta storia vai corri fuori mamma mia perché stavo col portiere la scatta cavallo vai sabitzer no perché a ripresa guarda quest'altro guarda quest'altro oddio che banda di pippe che è rotto ma finita 4 a 0 ma guarda che cazzo se la merita il red bull salt se la merita se la merita se la merita ragazzi se vi è piaciuto questo video io mi so tagliato di fare inizio comunque con tutti con tutti i cosi tutti importanti ragazzi se vi è piaciuto lasciamo 5.000 like 10.000 15.000 20.000 per vedere un altro video così magari che ne so con i tiri massimo che non si possono sbagliare queste cose qua così magari segna pure lui lasciamo 10.000 like noi ci becchiamo al prossimo video come sempre e bella